madonna e messeri dell'Opaleo di San Floriano oggi lo vostro cuoco Kikibio vi preparerà la zuppa dello speziale guardare sentire e poi dopo cucinare adesso faremo sciogliere un poco di lagarto macinato in un poco di olio io prima ho già preparato uno buon nodo vegetale con un po' di carota cipolla e un po' di sedano questo brodo ci cuoceremo poi dopo lo farlo soffriggere nell'olio lardo carota cipolla aglio sedano tutto insieme tritato fino fino adesso metteremo anche un poco sempre tritato bene di rosmarino e di salvia nello nostro soffritto aggiusteremo con un poco di sale e un poco di pepe il brodo che adesso bolle gli butteremo sopra lo nostro farro appena lo bollone ci lorderà il nostro brodo lo staccheremo lo fuoco da sotto lo farro e ci butteremo dentro lo nostro soffritto che è bello che pronto adesso staccheremo lo fuoco da sotto lo farro e faremo l'antica tecnica dello svampo metteremo lo nostro soffritto dentro la pentola con lo farro e lo parrodo una volta buttato dentro lo nostro soffritto gli daremo una bella mucinata chiuderemo lo coperchio e la faremo riposare in silenzio per almeno almeno tre ore madonna e messeri e la zuppa dopo tre ore che ha riposato in silenzio senza fuoco sotto è pronta e adesso noi la metteremo nella pagnotta chi c'è più io covo esperto di tutte le contrade del meglio vi saluta e vi aspetta all'ostria delle convenienti per lo prossimo palio